Dopo un anno di attività di consiglio direttivo, si può già fare un bilancio di cosa è successo e di quali obiettivi sono ancora da raggiungere? Considerando che la mia presenza nel consiglio direttivo è già consolidata perché come rappresentante dell'istituto, sono nel consiglio direttivo, sono stata identificata come persona dell'istituto che partecipa alle attività dell'Aeced, è presente nel consiglio direttivo. Ho visto quest'anno una grande energia, una nuova voglia di fare e di condividere con le persone che sono sia parte del consiglio direttivo, sia voglia di coinvolgere altri in questo nuovo iter, nuovo percorso che abbiamo avviato.